Sindaco, saperlovo questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo con il direttore generale Maurizio Di Giusia la fotografia sicuramente è di un netto miglioramento della situazione, anzi completamente diversa come l'ha definita. Sì, la situazione è completamente diversa rispetto a quella di febbraio e se fosse stata diversa a febbraio di certo tutte le vicende del Mazzini negative non si sarebbero verificate. Questa è una domanda alla quale abbiamo avuto una risposta molto chiara e che ci deve porre tante domande, soprattutto su quello che è successo ma a questo punto, in un momento in cui si apre una nuova fase, come sapete verranno riattivate adesso le tante prestazioni ordinarie all'interno della struttura ospedaliera ci impone e impone appunto a chi di dovere di evitare assolutamente che possa verificarsi ciò che è successo. Situazione diversa per quanto riguarda i percorsi, sia di accesso dall'esterno all'interno che di mobilità interna che consentono appunto di evitare in tante situazioni la commistione, la possibile commistione restano alcune criticità relative ai dispositivi di protezione su cui lavoreremo. Ecco mancano le mascherie. Sì, anche se diciamo c'è anche qui un... anche grazie a tante donazioni che sono state effettuate in favore della ASLE c'è una situazione diversa e maggiormente diciamo così di tutela però anche qui è necessario che ci sia un'azione istituzionale governata dal centro, dalla regione per poter mettere in condizione la nostra ASLE, tutte le ASLE di fornire al personale sanitario e quindi tutelando le persone sanitarie indirettamente ovviamente, tutti i pazienti, dei dispositivi di protezione. Senta, condigiosia che vi siete detti? Adesso vi siete anche incontrati in comune? Nulla di nuovo rispetto a quello che ci diciamo da settimane. Il passaggio di oggi non è un passaggio che cambia i termini dell'azione istituzionale del sindaco di Teramo o del rapporto istituzionale con i vertici dell'ASLE che è sempre stato improntato a un'ottica di collaborazione, di dialogo istituzionale, talvolta anche duro perché se oggi la situazione è diversa, è diversa perché c'è stata un'azione istituzionale, non politica, istituzionale forte di tanti sottoscritti ma anche di altri sindaci, del personale infermieristico, del personale medico perché noi siamo stati i portavoce, questa è la cosa importante che va detta, siamo stati i portavoce del personale sanitario che più volte rappresentava ciò che non andava e che a questo punto è stato un tema che è stato affrontato e si è intervenuto attraverso questi percorsi interni che sicuramente oggi portano il Mazzini in una situazione diversa che si apre alla fase 2, chiamiamola così con una prospettiva nuova. Con il Direttore Generale di Giosia però insomma vertete sull'idea che è quella necessaria di realizzare un ospedale ex novo. Non solo con il Direttore, io penso che il tema che è stato posto da tutti i capi di partimento oggi che ho incontrato ma tutti i sanitari che sono sul fronte è la necessità che questo tempo ci impone di riflettere su, questa volta in modo decisivo perché ci sono delle risorse sulle necessità appunto di un nuovo ospedale. Anche perché una nuova struttura probabilmente non sarebbe accaduta in una nuova struttura quello che è accaduto. La nuova struttura verrà realizzata ovviamente con degli spazi diversi perché ci sono anche delle situazioni in cui con ospedali delle caratteristiche come il nostro ma di tutti gli ospedali realizzati in un certo tempo, in un certo modo ovviamente diventa difficile proprio poterli adeguare a queste situazioni. Quindi una nuova struttura chiaramente nasce proprio con un'impronta completamente diversa, abbiamo delle risorse importanti come sappiamo a disposizione e su quelle dobbiamo puntare ma dobbiamo anche chiedere e questa è una richiesta che facciamo come territorio che Teramo, partendo dall'ospedale Mazzini, dalla sua centralità Teramo abbia risorse e fondi così come altri territori stanno ottenendo. Proprio perché su questa azione, azione che dovrà essere estremamente condivisa, passa il miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria, ospedaliera e territoriale del nostro territorio. E ricomincerà la battaglia sulla location? E' stato sempre un tema secondario rispetto a quello del contenuto che resta fermo anche oggi, anche col Mazzini così, e del contenitore che è funzionale a rendere il contenuto ancora più forte. Questo è lo schema che dobbiamo portare avanti.